Presentata alla stampa la nuova associazione Siamo Penne. L'associazione è composta da un ampio gruppo eterogeneo di persone che hanno a cuore le sorti di penne dell'area vestina. Sette finora i tavoli di lavoro messi in piedi che vanno dalla sanità al sociale per arrivare al recovery con l'obiettivo principale di rilanciare quest'area che ormai da troppo tempo naviga nell'anonimato ma ancora vivo grazie alla resilienza di chi ha deciso di non abbandonare le sue radici. Il presidente di questa neonata associazione è Andrea Marrone, attualmente vicepresidente del Penne Calcio e già consigliere comunale nel 2010 nella giunta targata di Marco Berardino, esperienza per lui terminata in anticipo dopo le dimissioni. È un nuovo e ambizioso progetto che parte dall'aggregazione di un gruppo di persone eterogeneo nella composizione non accomunato da una ideologia partitica ma bensì accomunato dall'idea di progettare, di dare visione ad un'area che oggettivamente nel tempo ha perso di centralità e di autorevolezza. L'obiettivo di questa associazione è quello di essere un incubatore, uno sviluppatore di idee progettuali ed è quella di essere facilitatore diciamo così nello sviluppo territoriale. Per il prossimo turno sono previste le elezioni amministrative, ecco è un pensiero questo di appoggiare con nuove idee anche una nuova squadra politica. Al momento l'associazione diciamo che vive di vita propria quindi avrà una sua progettualità, svolgerà e porterà avanti le sue attività progettuali appunto al compimento degli obiettivi per i quali è nata. Poi se dovessero esserci diciamo così delle possibilità e valuteremo che la possibilità di candidarsi o di ambire ad un ruolo amministrativo possa essere strumentale al raggiungimento degli obiettivi e ripeto lo valuteremo come associazione e vedremo. Ma non è questo il fine ultimo. Siamo penne proprio perché significa essere penne, rappresentare penne ma sì io amo penne. Noi stiamo lavorando su una progettazione a medio e lungo termine, abbiamo strutturato tavoli di lavori per argomenti diversi proprio individuando le criticità della nostra città e cercando di poter migliorare il nostro territorio a tutto tondo.